Ed ora apriamo la pagina della cronaca. Il cadavere decapitato di un uomo probabilmente immigrato è stato trovato sulla spiaggia di Marina di Torsalorenzo a pochi chilometri da Roma. Il cadavere è stato scoperto da alcune persone che hanno avvertito i carabinieri. Il medico legale intanto sta seguendo i primi accertamenti mentre gli investigatori dell'arma hanno avviato le prime indagini nell'ambito della comunità straniera della zona. Andiamo avanti con la cronaca. Si è affacciato da una stanza d'albergo e ha cominciato il tiro a bersaglio sui passanti con una pistola a beretta d'aria compressa. Un ragazzo di 15 anni della provincia di Pordenone che era a Roma in gita scolastica è stato raggiunto da un pallino e ferito alla testa. I particolari nel servizio agli Alessia Romano. C'è chi legge, chi va in palestra e chi passeggia con il cane ma lui un uomo di 39 anni. Ed è tutto dalla redazione di Latina. Voi la linea. Noi rientriamo nella capitale e andiamo avanti con la cronaca. Guardando un video in tv aveva imparato a coltivare droga. Un 46enne è stato arrestato dalla polizia. In casa aveva costruito una vera e propria serra di marijuana. I particolari nel servizio. Aveva trasformato una stanza di un appartamento nel quartiere Squilino in una vera e propria serra per la coltivazione di piante di marijuana completa di lampa di alogene, ventilatori, termostati, vasi, terriccio e fertilizzanti con tanto di manuale d'uso affinché l'attività casalinga funzionasse al meglio. Il tutto dopo aver visto un programma televisivo sulla coltivazione fai da te. Gli agenti della questura di Roma hanno arrestato un italiano di 46 anni per reati di produzione, spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma comune da spara, una pistola, lancia razzi. All'interno del piccolo appartamento gli agenti del commissariato Squilino hanno trovato e successivamente sequestrato 17 piante di cannabis dell'altezza di un metro e venti circa ciascuna. Nella camera vi erano inoltre custodite in due buste delle foglie di marijuana pronte per l'utilizzo. Questa sera aveva come funzione primaria quella di far nascere le piante dai semi di cannabis acquistati legalmente presso un negozio di giardinaggio specializzato. Gli agenti hanno infatti trovato nel salone dell'abitazione 26 vasi ancora pieni di terriccio con le piante germogliate e tagliate pronte per la raccolta. Nel complesso è stato sequestrato circa un chilo di marijuana. L'uomo ha raccontato ai poliziotti di aver intrapreso quell'attività dopo aver visto un servizio televisivo che evidenziava la facilità con la quale reperire sia il materiale sia le indicazioni precise per la coltura della sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Regina Celi. Andiamo avanti con la cronaca. Prima aveva conquistato la sua fiducia poi aveva iniziato a minacciarlo per farsi consegnare denaro, telefoni, cellulari e gioielli. La vittima un giovane con disagi psichici, il suo aguzzino invece un pregiudicato che è stato arrestato dai carabinieri della compagna di Frascati. La ricostruzione in questo servizio di Patrizia Polidori. Il suo incubo era iniziato un giorno come tanti di due anni fa quando... E per lo sport è tutto, vi restituisco la linea, grazie. Ed è tutto anche con il telegiornale di Gold TV, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo e alla rubrica La Voce dei Ragazzi. Arrivederci.